Puntata di Polifemo del 2 ottobre, di venerdì 2 ottobre in onda alle ore 21 su Viva la Puglia Channel, canale 93 del Digitale Terrestre, dedicata al volontariato e alla solidarietà. E allora quale occasione migliore per occuparci della undicesima rassegna provinciale del volontariato e della solidarietà? Un evento che partirà il 9 ottobre e si concluderà il 5 dicembre. Affronteremo questo argomento e parleremo della rassegna appunto con Francesco Riondino, presidente del CSW, con la professoressa Carmen Galluzzo Motolese, vicepresidente vicaria del CSW e con Maria Antonietta Brigida, alto vicepresidente del CSW. Seconda parte di Polifemo invece è dedicata allo speciale Huila, incentrato sulla sicurezza del lavoro in agricoltura, una tematica molto importante considerando tutti gli ultimi tragici avvenimenti accaduti nei campi. Ricordiamo poi che la replica di Polifemo L'Occhio di Abbate è programmata per domenica 4 ottobre alle ore 14.30. Dunque una puntata particolarmente ricca che si occupa di tematiche legate alla nostra attualità. E allora non resta che mettervi comodi in poltrona, posizionare il telecomando sul canale 93 del Digitale Terrestre, viva la Puglia Channel, e gustarvi, tra virgolette, un appetitoso Polifemo. Buona visione.